Buongiorno a tutti, sono Susan Fraholst, contento di essere qui con voi. Siamo molto eccitati dalla LifeWave e le vite che la tecnologia riesce ad impattare. Una grande azienda e un enorme, grande cuore del dottor David Schmidt. Ognuno ha la lista di cose che voleva migliorare. Io ho male alle ginocchia, spalle, anche piedi. Lavoravo alla radio, avevo problemi alla voce. I miei capelli erano molto grigi. Continuo a colorarli, ma la mia pettinatrice vede che il colore originale sta tornando. Anche il recupero dall'esercizio fisico è migliorato. Avevo anche dei problemi alla pelle, sul collo. È fantastico, quindi più usi ceroti, più il corpo si rigenera. Sia cose grandi che cose piccole.